Ci troviamo alla Cantina Borbonica di Partinico dove si è tenuto un seminario dal titolo Il Verde è di casa. Bene, parliamo con il Presidente dell'Ordine, Professore Vincenzo Diddio. In che cosa consiste questo seminario? Allora, il seminario affronta i temi dell'Eco Bonus e del Sisma Bonus, meccanismi messi in piedi dallo Stato per garantire miglioramento dal punto di vista sia sismico che energetico della qualità del nostro costruito. Oggi i cittadini hanno l'opportunità attraverso questi meccanismi incentivanti messi in piedi dallo Stato di poter migliorare la fruizione del proprio patrimonio edilizio, sia dal punto di vista energetico, quindi avendo conseguentemente case che non buttano inutilmente fuori l'energia e il calore che viene prodotto dentro e che possono anche essere più sicure attraverso interventi di miglioramento sismico. Chi può accedere e come? Allora, il consiglio spassionato è di rivolgersi a bravi tecnici. Fortunatamente in provincia di Palermo ne abbiamo tanti e sono disponibili. In tanti ci siamo riuniti oggi a discutere su questi temi e a confrontarci. Il requisito per l'eco bonus è sostanzialmente avere delle case inefficienti per assurdo, in modo tale che col famoso salto di due classi di categoria si possa garantire l'intervento di efficientamento, che consiste sostanzialmente nella realizzazione di cappotti, nel miglioramento degli infissi, quindi l'isolamento sia delle pareti opache che di quelle vetrate, nonché poi la realizzazione di altri interventi di natura impiantistica, fino ad arrivare per esempio alla collocazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, da installare sul tetto. È una rivoluzione verde, una rivoluzione green, che ci vede partecipi, che sta rilanciando l'edilizia, che può migliorare il nostro patrimonio e quindi far vivere più qualitativamente meglio le nostre città. È una scadenza? Ci sono varie scadenze, ce n'è una per esempio imminente che è il 30 giugno per le unifamiliari, ma sembrerebbe che il governo finalmente ci consentirà una proroga. E poi le varie scadenze ancora in realtà sono anche in là nel tempo, per cui c'è ancora tempo per poter intervenire e considerato che gli interventi vengono coperti dall'agevolazione statale è caldamente consigliato per tutti coloro che volessero. L'iter ha un costo? L'iter non è un costo perché anche le attività professionali, i costi connessi alle attività professionali, sono coperte da queste forme di incentivazione statale. Quindi consiglio vivamente a tutti i cittadini che volessero intraprendere queste attività di rivolgersi a dei tecnici che operano in questo settore. Il consiglio è che se il tecnico è noto e conosciuto e apprezzato per professionalità è meglio perché purtroppo ci si può trovare anche in situazioni non facili, perché poi comunque c'è sempre la questione della sicurezza, dei lavori da svolgere e quindi la cautela in queste cose non è mai troppa. Ricordiamoci che anche ai fini della sicurezza le responsabilità del committente rimangono e quindi pur nel fatto che gli interventi coprono tutto, il committente resta responsabile delle attività e quindi per questo il consiglio è di rivolgersi a tecnici competenti e preparati e seri. Ingegnere Viola, lei ha organizzato questo seminario. È una rivoluzione green, vera e propria? Assolutamente sì. Io sono il referente ma il seminario è di fatto organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo. Mi piace tanto il fatto che già è la seconda volta che l'Ordine viene qui a Partinico per far mostrare la presenza a tutti e anche e soprattutto ai professionisti perché a parte le argomentazioni di natura tecnica ha anche valenza formativa perché tutti i professionisti, ingegneri iscritti all'Ordine che partecipano vengono rilasciati questi famosi CFP che sono valevoli per la formazione. Diciamo che l'argomento è un cult, è un argomento molto caldo perché come ben sappiamo ci riguarda da vicino un po' tutti. Io penso che a casa chiunque parla di eco bonus, sistema bonus, la possibilità di sistemare qualche vecchia abitazione o di efficientarla da un punto di vista energetico. Un'altra cosa importante soprattutto è che abbiamo visto una rinascita anche dell'edilizia. Noi giriamo per il paese, giriamo per le città, ci rendiamo conto di quanti cantieri fondamentalmente adesso sono tornati ad essere presenti perché di fatto l'edilizia era un po' morta negli ultimi anni. Quindi sicuramente ha avuto una conseguenza positiva sia per l'economia ma anche per l'efficienza energetica dell'abitazione. Il risparmio energetico è fondamentale soprattutto alla luce degli eventi geopolitici che stanno caratterizzando un po' tutto quello che leggiamo ogni giorno e quindi comportano necessariamente l'incremento di costi energetici, gas e fonti non rinnovabili. Quindi sì, efficientare è ottimo, utilizzare fonti rinnovabili è una soluzione assolutamente eccellente ma è fondamentale anche per poterne beneficiare e parlare, come diceva il Presidente, con tecnici competenti in materia. Il titolo di proprietà diventa un requisito necessario? Assolutamente sì, il titolo di proprietà è fondamentale, soprattutto io aggiungerei anche alla valutazione della cosiddetta conformità urbanistica dell'immobile. Benché comunque attraverso una serie di interventi normativi questo aspetto è stato sorvolato, mettiamo così, perché di fatto è stato introdotto anche un titolo specifico per gli interventi che è la CILA Superbonus. Cioè di fatto prima chi doveva intervenire in un edificio, il tecnico doveva presentare a prescindere per esempio una CILA, una comunicazione di inizio lavori asseverata, con la quale doveva asseverare la conformità urbanistica dell'immobile. Quindi mettiamo il caso che voi avevate, non so, una veranda abusiva, un ampliamento non regolare, il tecnico a prescindere doveva asseverarlo, cosa che ovviamente non poteva fare. E quindi la non conformità, a part essere un abuso, ovviamente è un elemento che fa decadere l'incentivo. Con la CILA Superbonus, la cosiddetta CILAS, questo elemento è stato apparentemente superato, perché mettiamola così. Nel senso che il tecnico che va a produrre la pratica non deve asseverare la conformità dell'immobile, ma comunque l'abuso rimane. E se è un abuso non sanabile, ricordo, potrebbe comportare la decadenza del beneficio. Quindi a prescindere, io consiglio a chiunque, prima di imbarcarsi in questa esperienza, valutare la conformità urbanistica, far valutare la conformità urbanistica dell'immobile a tecnici assolutamente preparati. E perché è bene avere una casa in regola e poter beneficiare di questo incentivo, che ripeto, è comunque un campo minato per chi non ha tutte le carte a posto. Mettiamola così. Ci sono delle scadenze differenziate e poi c'è un quantum minimo e massimo? Sì, ci sono dei massimali di legge previsti dal testo normativo che consentono di valutare quanto sono le voci di spesa massimali per ogni tipologia di intervento, sia dalla parte eco-bonus che dalla parte sisma-bonus. Sono a perfetta conoscenza di tutti i tecnici e devono essere asseverate nella cosiddetta conformità dei prezzi. Quindi noi tecnici dobbiamo valutare il rispetto dei massimali di spesa a seconda dell'intervento che facciamo. Il fotovoltaico ha un suo massimale, il suo termine di consuma e così via. Per quanto riguarda le scadenze, come diceva il Presidente, sì, c'è da fare questa differenza tra gli edifici unifamiliari e i condomini. Gli unifamiliari, la scadenza, diciamo, devono essere completati entro l'anno i lavori per gli edifici unifamiliari, quindi entro quest'anno, però con un ulteriore vincolo che entro giugno deve essere eseguito il 30% del SAL. Il SAL è lo stato di avanzamento lavori. Tuttavia, ad oggi c'è ancora un intervento del Governo che tende a dilazionare, quindi traslare avanti nel tempo questa scadenza di questo 30% del SAL. Si attenderanno adesso, dopo Pasqua, questo intervento per capire quali saranno le future scadenze. Sui condomini c'è un po' più tempo, quindi si può lavorare ancora di più, quindi fino al prossimo anno penso che c'è la possibilità di poter intervenire. Ecco, è stato un intervento importante, risolutivo, qualcosa di positivo. Quindi mi auguro, come dire, che questi incentivi possano costituire anche un ulteriore volano per l'economia, non solo per oggi ma anche per il futuro. Grazie. 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 Grazie.